La guerra per la conquista del paradiso era ormai finita. Un angelo del male era disceso per vendicare la sconfitta e creare l'inferno sulla terra. L'Eden sta per essere abbattuto. Ora la nostra sola speranza era legata al destino del figlio che doveva nascerle. Tu e il bambino siete tutto quello che ci resta. Che sta succedendo? Non hai idea dei guai che ti porti dentro. Scappa! Che sta complottando? Vuole uccidere il salvatore dell'umanità. Glielo chieda, avanti. Su. Non una parola o l'uomo vola. Ora vai. Non hai la patente? Il potere di un angelo e la spontanea volontà di un umano è una miscela esplosiva. Voglio che tutto torni come quando il paradiso ci apparteneva. Preparatevi All'arrivo Del male Su il sipario Christopher Walken L'angelo del male All'arrivo Il 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 Grazie.